prima di riprendere con l'esempio fatemi sottolineare una cosa che ho preso come spunto la domanda che mi avete fatto durante la pausa ecco, cercate il più possibile di ragionare per componenti quando lavorate in React ricordate che React è comunque per visualizzare cose sul frontend componenti sul frontend quindi è comune prendere un componente, crearlo, distruggerlo visualizzarlo, non visualizzarlo, eccetera cose come quello che abbiamo fatto per i submitted sono comunissime quindi se è sottomesso visualizzo il redirect se non è sottomesso visualizzo il form quindi rimpiazzo completamente, distruggo il form lo tolgo dalla pagina perché ci mette il redirect quando è sottomesso e quando non è sottomesso non metto il redirect e creo il form quindi questa operazione tutte le volte crea e distrugge componenti che è molto comune in React anche l'error message funziona nello stesso modo quando il messaggio d'errore c'è creo il componente alert quindi aggiungo nell'html il componente e nel DOM alla fine viene aggiunto il componente oppure non aggiungo niente questa riga si può scrivere così con l'operatore ternario oppure un altro modo molto frequente di scrivere nel React e l'abbiamo visto qualche settimana fa quando parlavamo di JavaScript è questo error message doppia end commerciale la cosa da visualizzare questo vi ricordo cosa voleva dire vuol dire che se questo è true allora e questo è ovviamente true di conseguenza allora questo viene visualizzato se questo è false ovviamente l'intera espressione diventa false e questo non viene visualizzato quindi questo è un altro modo per scrivere e per far apparire o comparire componenti in questo caso non abbiamo un altro componente se non c'è l'alert non vogliamo far apparire niente quindi invece di scrivere due punti virgolette virgolette o due punti null anche due punti null va bene perché così inserisce proprio niente quando React vede un return di un componente a null non lo inserisce se vede virgolette virgolette invece può inserire la riga vuota o comunque l'attributo se viene usato su un attributo quindi questo è un altro modo per farlo e funziona equivalente in maniera equivalente allora ci mancavano due cose qui uno il form non si aggiornava perché il form non si aggiornava? perché è il classico errore da disattenzione perché quando abbiamo creato quando noi aggiorniamo il form cosa facciamo? quando aggiorniamo il form con add quando aggiungiamo un esame con add e aggiorniamo lo stato lo stato che è memorizzato a livello di app qui perché chiamiamo set exam dall'add ora questa tabella quando sappiamo che quando si aggiorna uno stato di un componente l'intero componente viene rirenderizzato quindi in questo caso con l'add app viene rirenderizzato e quindi tutti i componenti ricevono nove props eventualmente quindi noi quello che ci aspettiamo è che dato che abbiamo aggiunto un esame e lo stato viene aggiornato app si rirenderizza ma app contiene anche la tabella ovviamente e quindi la tabella dovrebbe rirenderizzarsi perché la tabella riceve la lista degli esami ok? siete d'accordo con questo ragionamento fino qui? sì no? ok qualcuno sì qual è il nostro problema? il nostro problema è l'errore da stupide che ho fatto non è uno da stupide che nella riscrittura mi sono dimenticato un pezzo guardate cosa passo alla tabella ah l'errore è questo guarda lo vediamo anche col delete se io premo il delete l'ho premuto vedi? non si toglie l'application io posso premere tutti i delete che voglio ma non si cancella la roba nella tabella questo è l'errore ok? e la stessa cosa capita se lo aggiungo se lo aggiungo non si aggiorna la tabella se lo aggiungo computer architecture e faccio salva la tabella non si aggiorna ok? questo è l'errore è chiaro Jacopo? ora perché c'è questo errore? non dovrebbe esserci questo errore perché quando aggiungo una cosa lo ripeto modifico lo stato e quando un componente ha lo stato modificato si rerenderizza dato che questo è up ovviamente si rerenderizza tutto dovrebbe renderizzarsi tutto dicevo qual è l'errore da un po' da stupidi che ho fatto io e che nella ristrutturazione cosa è successo? è successo che noi a un certo punto non avevamo lo stato qui e quindi passavamo alla tabella fake exam e quindi cosa succede adesso quando io premo il bottone di cancella? succede che lo stato dentro exams viene cambiato ma ovviamente fake exams è questo array qui che è statico che è fisso e quindi non cambia dato che non cambia la tabella non cambia quindi qual è la soluzione? che qui non bisogna usare fake exam ma bisogna usare la collezione di oggetti che viene cambiata e qual è questa collezione di oggetti che viene cambiata? beh è lo stato exams quindi se noi passiamo correttamente gli esami che stiamo manipolando e salviamo e aggiorniamo vedete che la tabella è di nuovo ovviamente completa e se io schiaccio delete hit si cancellano posso anche cancellarli tutti e se faccio add e aggiungo openapplication1 vedete la tabella si aggiorna ecco l'errore che ci mancava la distrazione l'altra cosa che ci manca è far funzionare il bottone cancella da questo form questo è un errore è una cosa che non abbiamo fatto come facciamo andiamo nel form dove c'è il bottone cancella questo è facile dobbiamo togliere long click su cancella ovviamente e cosa scriviamo possiamo scrivere per esempio link to slash quindi quando cancello ritorno direttamente alla fatemi cancellare se c'è un cancel no e ritorno direttamente alla home page quindi io premo cancel e torno indietro premo add e vedete che anche la url cambia come ci aspettiamo tutto chiaro fin qui perché aggiungiamo ancora un pezzettino prima di passare alle classi scusate io però vi chiedo se ci siete perché non vorrei andare troppo veloce quindi se riuscite qualcuno a rispondere ok allora aggiungiamo un pezzettino aggiungiamo questo l'edit dell'esame ricicliamo il form l'abbiamo già lo possiamo riciclare ricicliamo il componente così non dobbiamo ricreare un altro form di zero non dobbiamo creare un update exam form usiamo questo ce l'abbiamo già e allora come facciamo ad usare questo beh innanzitutto copiamo queste tre righe no perché alla fine invece di premere add e finire su form premeremo quest'altro bottone e finiremo su form sullo stesso form quindi copiamo queste e invece di add scriviamo update benissimo così abbiamo creato una nuova pagina per l'aggiornamento usiamo exam form sì perché no cosa deve fare exam form deve sicuramente prendere i corsi questa volta non i corsi che non sono negli esami ma potenzialmente tutti perché stiamo aggiornando un esame che già abbiamo quindi in realtà questi potrebbero essere tutti i corsi oppure i corsi che sono inclusi negli esami ma ci cambia poco perché tanto non andremo dato che aggiorniamo uno specifico corso non andremo a cambiare il codice del corso e poi abbiamo se vogliamo come prima abbiamo una props ad exam che però non dovrà chiamare il metodo ad exam perché in realtà l'esame c'è dovrà chiamare un update exam perché deve aggiornare lo stato e quindi possiamo creare qui una funzione update exam che come abbiamo visto l'altra volta cosa si fa quando si vuole aggiornare una collezione si chiama set exams con gli esami che ci sono in un arrow function e si ritorna exam.map perché dobbiamo rimpiazzare interamente l'oggetto che stiamo editando quindi questo è il codice che c'è praticamente nelle slide della settimana scorsa quindi map se il codice del corso coincide col codice del corso dell'esame che stiamo modificando allora ritorniamo un oggetto intero che è composto dal codice del corso exam.code dallo score exam.score e dalla data exam.date quindi creiamo un nuovo oggetto con le informazioni che ci sono tornate da exam altrimenti dato che è una map ritorniamo semplicemente l'oggetto che è già contenuto nella map e questo è esattamente quello che abbiamo visto nelle slide d'altra volta a come modificare lo stato in maniera che poi React si accorga che lo stato è davvero cambiato e quindi lo rirenderizzi in maniera corretta ora l'altra cosa che possiamo fare ma giusto per è un po' brutto avere una props che si chiama ma è una piccolezza avere una props che si chiama add exam quando in realtà vogliamo aggiornarla e quindi potremmo chiamarla add or update exam e la chiamiamo così dovunque ci sia l'exam form e di conseguenza anche nell'exam form dobbiamo andare a utilizzare non add exam ma dove è finito qui non add exam ma add o update exam e a questo punto non sarà nuovo sarà un esame quindi chiamiamolo solo exam perché può essere anche quello già aggiornato però in ogni caso comunque ricicliamo in un certo senso lo stesso codice di prima quindi mi ha creato una pagina update e quindi cliccando qui vogliamo andare su quella pagina clicchiamo qui dov'è il clicchiamo qui era dove c'era il delete qui allora qui avevamo uno span per il delete possiamo fare la stessa cosa per come si chiama l'edit in questo caso potremmo per esempio usare un link visto che andiamo in un'altra pagina link to che cosa slash update e chiudiamo il link ok quindi aggiungiamo un link intorno a questo bottone a quest'icona di edit e qui possiamo usare quello che abbiamo visto prima possiamo passare l'oggetto esame al form in modo che lui possa quando clicchiamo qui possa riempire questi campi in maniera corretta possa riempire sia il corso che lo score che la data allora come facciamo ricordate da da quello che abbiamo detto prima a questo tu possiamo passare un oggetto oggetto che può avere vari parametri sicuramente path name ci serve che appunto dove andiamo a finire col 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 tu c'è un parente element questo ci vuole una doppia parentesi graffa ok path name e poi possiamo passare quello stato che abbiamo detto prima che cos'è lo stato beh è un oggetto che ha exam che ha l'esame perché perché l'esame che deve visualizzare e in realtà ci aggiungiamo anche un altro oggetto perché c'è un problema con djs che si chiama exam date che semplicemente è props punto exam punto date punto format quindi la stringa che memorizzeremo nello stato del form che rappresenta la data ok quindi cannot read the data undefined fatemi controllare che sia tutto a posto ma direi di sì magari devo salvare ma poi perché se funzioni ah certo perché a raw control non arriva giustamente l'esame quindi dobbiamo passare l'esame invece del codice passiamo direttamente l'esame e quindi qui sistemiamolo come exam punto code perfetto quindi sempre come di solito probabilmente manca una props passata in maniera giusta ok questo lo passiamo perché ve lo racconto dopo ma c'è un problemino con con djs con nei form e allora questo lo risolve memorizzandolo come stringa che tanto è quello che poi memorizziamo come stringa nello stato quindi non abbiamo niente di problematica quindi passiamo allo stato con link quindi questo root da questa parte sull'update si troverà anche questo stato nella location noi andiamo a farlo con look perché così vediamo come si fa con look potremmo anche scrivere qui tipo exam uguale props punto location punto state bla 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 ma lo facciamo con look che è più più facile più veloce quindi di qui andiamo a importare da react router use location che è appunto il look della location nel form a questo punto sappiamo che ci arriverà uno stato quindi possiamo fare const location uguale use location e andare a inizializzare lo stato se siamo nel caso add lo inizializziamo così come l'abbiamo inizializzato finora se siamo nel caso edit andiamo a inizializzare lo stato con i valori che riceviamo quindi qui scriveremmo se location punto state esiste allora qui dentro ci mettiamo location punto state punto come si chiama course name name solo name punto name altrimenti se lo stato non esiste perché non è stato passato vuol dire che siamo nel caso dell'add ci mettiamo virgolette facciamo la stessa cosa per il voto dove invece di name andiamo a scrivere score e la stessa cosa per la data dove invece di prenderlo da qui lo andiamo a prendere da questo scusate state punto exam punto name score punto exam punto score e qui state punto l'abbiamo chiamato exam date così è già una stringa quindi se c'è questo stato vuol dire che arriviamo dall'edit allora mettiamo i valori che vogliamo se invece non c'è questo stato vuol dire che arriviamo dall'add e quindi mettiamo i valori di prima di default per iniziare tutto il resto rimane uguale in teoria e abbiamo finito quindi proviamo a vedere se funziona aggiorniamo proviamo a modificare web application e proviamo vedete c'è un problema col corso quindi questo non va bene dobbiamo sistemarlo lo score la data l'ha preso erano giusti e quindi proviamo a sistemare il problema col nome perché c'è un problema col nome quindi non abbiamo riempito correttamente questo non si chiama name state punto name eh già si chiama code questo è il codice giustamente non c'è un name quindi se noi andiamo a vedere adesso vedete che c'è web application quindi possiamo cambiare per esempio il voto di web application mettiamoci un 30 e salviamo e vediamo che web application si è correttamente aggiornato facciamo ancora una cosa fine nel senso che qui non è tanto bello che posso andarmi a cambiare il corso no questo dovrebbe essere bloccato su web application e quindi questo possiamo farlo disattivando questo nel caso in cui ci sia uno stacco questo è il form control questo on change e qui possiamo scrivere disabled uguale location punto state quindi se c'è location punto state questo campo è disattivato se non c'è quindi non posso cambiare il corso se non c'è invece rimane attivo quindi se noi salviamo e facciamo per esempio di nuovo edit vedete che questo non posso fare niente posso solo cambiare il codice il voto o la data potrebbe ripetere cosa serve l'use location l'use location è look per la proprietà location che viene passata che può essere passata da link e intercettata da root come abbiamo detto nelle slide è solo un hook e nel nostro caso ci serve per intercettare questo oggetto quello del link to e in particolare questo stato quindi quando noi clicchiamo su edit passiamo all'oggetto esame qua l'oggetto esame questo web application 1 24 21 giugno 2021 passiamo l'oggetto javascript a il destinatario di questo link che è questo form in modo che questo form riceve tramite questo location location punto state riceve questo e può riempirsi in maniera corretta quindi riempire i dati nel form a differenza di quello che capita con l'add dove il form è invece vuoto e vedete tutto il resto non l'abbiamo toccato abbiamo riciclato che di nuovo è molto comodo e tipico in React abbiamo riciclato il componente del form abbiamo solo fatto due modifiche per riempirlo in maniera corretta perché in questo caso vogliamo aggiornare e per disattivare un campo perché in questo caso è bene che non venga toccato e poi il resto del componente è praticamente identico la validazione tutto il resto rimane attivo ovviamente se noi non passassimo questo state qui questo form verrebbe di nuovo con un codice a caso e quindi sarebbe poi problematico perché potrebbe aggiornare un qualunque esame quindi andrebbe comunque ricontrollato qui riga 66 potrebbe fare vedere il stato definito user location user location definito riga 66 e user location è un hook di React Router quindi si importa di React Router giusto per farvelo rivedere sulle slide così location è questa cosa qui che abbiamo detto è una props che viene passato al metodo render all'etodo children se si vuole che arriva anche da lì e dov'è che è? c'è questo hook use location che mappa quella props quali sono le proprietà di location o prese dal hook o prese dalla prop che abbiamo visto che c'è qui le proprietà di questa location sono queste prende lo stato dal link e a quel punto come in questo esempio ci permette di passare un oggetto da un link a un appunto a una root questo è il modo senza hook e nella slide dopo c'è il modo con hook qua che è quello che abbiamo appena fatto simile perché qua prende solo il codice dell'esame e noi invece prendiamo tutto ok quindi questo completa il nostro esempio siamo partiti da un'applicazione che aveva una pagina sola e cliccando adesso andiamo su delle pagine e vedete cambia l'url e possiamo anche usare l'indietro del browser per tornare dove eravamo e l'avanti per andare dove eravamo addirittura possiamo fare refresh e la pagina continua a funzionare in maniera corretta ecco vi dicevo prima perché abbiamo passato giusto per dirvelo perché abbiamo passato la data in maniera separata dal resto perché funzionerebbe tutto anche se non la passassimo in maniera separata il problema è quando se uno clicca refresh quando uno clicca refresh in questo modo funziona quando invece con l'altro modo non funziona perché perché cosa succede quando uno clicca refresh questa pagina di update riceve un oggetto attraverso location.state dal link che chiama l'update ma se io faccio refresh non ci arrivo dal link ci arrivo dal refresh no allora dov'è questo oggetto di state che viene passato dal link non c'è più perché io non l'ho cliccato dal link allora cosa fanno i browser in questo caso quando arriva una pagina così che arriva da un oggetto state da un link il browser sia Chrome che Firefox salvano il contenuto di quell'oggetto state su disco e quindi quando faccio refresh recuperano da disco quello che è stato passato quindi quello che c'è nello state nel nostro caso l'esame qual è il problema con date il problema è che un date è che in questa fase di scrittura su disco e di risalvataggio su disco date non si salva totalmente bene o non si ritorna in JavaScript totalmente bene e quindi hai un oggetto date in cui c'è c'è la data ma mancano dei pezzi manca per esempio il format e quindi se uno clicca refresh sull'update questa pagina non funziona e viene un errore invece passando la stringa la stringa riesce a salvarsi su disco automaticamente e a recuperarsi da disco automaticamente quindi è un trucchetto per risolvere questo problema che è un problema di Date.js applicato a questo caso specifico nel form magari lo risolveranno è un problema di serializzazione di serializzazione di Date attraverso il router che non avviene in maniera attraverso il browser che non avviene in maniera completa quindi con questo trucchetto di dividere e memorizzare la stringa nello stato del form a quel punto risolveremo il problema perché le stringhe e gli altri tipi di oggetti riescono a serializzarsi e di serializzarsi senza problemi ma a livello di codice sarebbe stato corretto anche usare dei JS sono un problema implementativo attuale del mix React React Router Browser dei JS ok domande questo poi lo carico su anzi lo carico adesso su git nel repository così l'avete cosa succedeva se ricevamo solo dei JS succedeva che quindi qui cioè se qui facevamo qui punto format intendi partendo dall'esame se facciamo così exam punto date punto format sì lo carico sempre in wicot si è caricato in wicot e questa la wicot sì succedeva che alla prima volta che chiamavi l'edit funzionava tutto tutte le volte che chiamavi l'edit funzionava tutto ma come dicevo prima quando schiacci adesso l'ho stoppato quindi non so più se funziona quando schiacci l'update quindi qui funzionava tutto ma appena facevo un refresh veniva un errore veniva l'errore format non è una funzione valida quindi date punto format non è una funzione valida proprio perché date ritornava ma ritornava senza le sue funzioni all'interno se uno ispezionava con il codice vedeva che c'era il giorno il mese l'anno ma tutte le funzioni format to string eccetera erano sparite mentre quando si è arrivata verso link c'erano un baco di serializzazione no non voglio salvare la pagina ok ok quindi questo chiude l'esempio sul router il prossimo laboratorio il prossimo big lab è ovviamente sul routing essenzialmente sul routing quindi vi si chiederà di dividere in pagine la vostra applicazione che avete fatto finora quindi dovete fare le cose che abbiamo fatto oggi quindi spostare probabilmente lo stato più in alto se non l'avete già messo all'euro di app perché probabilmente vi serve dividere meglio i componenti esportare i componenti come nel nostro caso avevamo dovuto esportare il form perché a questo punto il form veniva chiamato direttamente da qui mentre prima era solo chiamato internamente in exam score e fare questi tipi di considerazioni che abbiamo fatto oggi durante questo esercizio ok domande sul routing è tutto apparentemente chiaro poi sicuramente lunedì facendo il laboratorio o riguardando questo il codice che abbiamo sviluppato può venire qualche dubbio ma lo risolverete o durante il laboratorio o dopo con noi con me con il borsista con Luca se volete ovviamente è apparentemente chiaro bene e questo dicevo chiude anche quello che facciamo di React abbiamo ora dovreste essere in grado di costruire un'applicazione React stand alone come quella della Todo List o questa degli esami anche un pochino più complicata se volete andare su più pagine che ovviamente vive all'interno del browser quello che ci manca che faremo al prossimo settimane sarà aggiungiamo un server aggiungiamo un database per avere la persistenza dei dati così che questi esami vadano salvati su un database vengono modificati dal database e il database poi attraverso i server restituisca le informazioni aggiornate a le applicazioni React perché immaginatelo nel web il vostro sito web sarà raggiungibile su un indirizzo il mio sito .it che molteplici persone potranno accedere magari molteplici persone potranno modificare i propri esami quindi ci vuole un punto centralizzato in cui queste informazioni stiano e non ognuno all'interno del proprio browser che appena uno clicca refresh sparisce tutto come capita in questo caso quindi aggiungiamo questa persistenza quindi dobbiamo aggiungere un server e poi dobbiamo aggiungere quindi abbandoniamo un attimo React per parlare brevemente settimana prossima del server e poi vedremo come unire questi due mondi il mondo React con il mondo del server in modo che si parlino e sarà poi l'ultimissimo argomento un penultimo argomento del corso come far parlare questi due mondi che abbiamo visto finora prima di iniziare il server la prossima volta parliamo però adesso in questa ora che manca magari ce ne servirà meno dell'ora e finiremo un po' prima a quel punto non c'è problema parliamo di classi e parliamo di moduli ora i moduli li abbiamo già li avete già usati abbondantemente in queste settimane quindi magari andremo un po' più veloce ma è l'export e l'import che abbiamo visto finora che abbiamo usato nelle varie modalità le classi è una cosa che non abbiamo visto abbiamo saltato in React non le usiamo perché usiamo le funzioni però in Express e in su server ci sarà comodo anche usare le classi e quindi usiamole e quindi le introduciamo adesso non è un concetto complicato perché alla fine le classi sono un wrapper che vi fa scrivere una sintassi più simile a quella che scrivete in altri linguaggi di quello che già in certo senso facciamo con le funzioni costruttrici quindi non è tutto è un altro modo di scrivere più o meno le stesse cose prima di parlare delle classi però dobbiamo fare due cenni a un concetto fondante di di javascript e qui parliamo di javascript quindi di nuovo javascript che funziona nel browser ma anche javascript di node quindi il linguaggio torniamo un attimino sul linguaggio noi abbiamo detto se ricordavate che javascript tra le varie declinazioni che ha alla declinazione funzionale ma anche la declinazione a oggetti che noi usiamo in maniera più preponderante avevamo detto se mai ricorderete che javascript è basato su prototipi non è class based come java per esempio ma è prototype based e quindi le classi esistono esiste la keyword class ma in inglese viene chiamato syntactical sugar per i prototipi quindi è un un addolcimento sintattico invece di scrivere gli oggetti a mano con le function con function construction e quant'altro scriviamo class perché siamo più comodi perché più familiare perché più veloce e perché ci semplifica la vita però quello che fa javascript prende quella classe che avete costruito con la keyword class e la trasforma in un oggetto con una function con una function construction eccetera 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 ora cosa vuol dire e qui facciamo solo un cenno poi se volete l'anno scorso in questo corso sia la versione italiana che la versione inglese che non ho fatto io nessuna delle due affrontano questo problema in dettaglio andando a vedere cosa succede quando si crea un prototipo si modifica un prototipo eccetera con un vero dettaglio che però ci porterebbe via tre due ore e che non è poi necessario per il corso perché è un meccanismo di come funziona javascript come linguaggio sotto il cofano però se siete interessati potete tranquillamente guardare dopo questa lezione potete tranquillamente guardare uno dei video su classi e moduli del corso dello scorso anno che ha tipo un'ora che va in profondità sui prototipi come funzionano come non funzionano come si costruisce un diciamo l'equivalente di una classe usando interamente i prototipi l'eretarietà coi prototipi eccetera eccetera che e poi arriva a un certo punto dicendo tutto questo casino lo semplifichiamo con le classi e quindi usiamo le classi noi questo casino non lo raccontiamo quest'anno perché ci porta via un'ora ed è abbastanza fuori tema abbiamo già tante altre cose da raccontare da provare e quindi però gli cenni sui prototipi è bene darli perché uno così capisce cosa succede e poi appunto se volete questo approfondimento totalmente facoltativo potete tranquillamente guardare quella video lezione dell'anno scorso la trovate sia per il corso italiano che per il corso di inglese su youtube i docenti del corso italiano e inglese sono gli stessi di quest'anno escluso me perché c'erano solo due corsi un inglese e un italiano chiusa parentesi cosa vuol dire che è prototype based beh vuol dire innanzitutto che ogni oggetto javascript qualunque oggetto javascript ha una proprietà interna e nascosta che si chiama in questo modo prototype tra doppie parentesi quadre questa proprietà interna che ogni oggetto vedete qui stiamo andando un po' nel come funziona javascript no? quindi poi poi la piantiamo ma un pochino ci andiamo dentro quindi questo oggetto javascript che avete che avete creato voi che già esiste tutti questi oggetti hanno questa proprietà interna che si chiama doppia parentesi quadra prototype doppia parentesi quadra che è un puntatore a un secondo oggetto che è associato con l'oggetto in questione quindi c'è questa proprietà prototype che punta a un altro oggetto e questo questo fatto si può o leggere con questo metodo quindi si può anche sapere qual è questo oggetto x con get prototype of e passando all'oggetto da cui siamo in partenza quello dove è stato dichiarato questo doppia parentesi quadra prototype e si può anche cambiare questo puntatore quindi rimpiazzare questo puntatore e farlo puntare da un'altra parte col set prototype of che cosa cos'è questo secondo oggetto a cui è associato l'oggetto il nostro oggetto a questo secondo oggetto è quello che è quello che chiamiamo quello che in javas si chiama un l'object prototype no l'oggetto prototipo e prototipo in questo senso si intende quasi più come io faccio un prototipo e poi ho l'oggetto che deriva in un certo senso da quel prototipo che ho creato questo object prototype a sua volta dato che un oggetto javascript ha una proprietà parentesi quadra parentesi quadra prototype che linkerà a un altro oggetto quindi abbiamo il nostro oggetto a che avrà il suo prototype tra parentesi quadra che sarà un link all'oggetto b la cui proprietà parentesi quadra parentesi quadra prototype sarà un link all'oggetto c la cui proprietà e andiamo avanti così prototype fino a che a un certo punto non va a finire a nulla quindi l'oggetto a ha un suo object prototype che è b l'oggetto b ha un suo object prototype che è c c ha un suo object prototype che a un certo punto kd e d ha un suo object prototype che alla fine è nulla qual è quindi si crea una catena di prototipi da cui ovviamente no potete già immaginarlo se ricordate un po' il mondo programmazione oggetti anche in java anche se basato su classi in cui potete immaginare che questa è una catena di prototipi per cui b erediterà o avrà accesso in qualche modo a qualche proprietà di c che quindi saranno sue e e ha la stessa cosa per a ora chi è questo oggetto che a un certo punto punta a null che ha un prototype che punta a null tipicamente questo è object che è il capostipite della catena di prototipi per cui non ha un suo prototipo è lui il prototipo originale di tutto e tipicamente in javascript tutto ha come ultimo prototipo object quindi object è il capostipite in un certo senso dei prototipi quando noi quindi questo vale per un oggetto un oggetto qualunque anche quelli standard di javascript una stringa un array qualunque cosa sia alla fine un oggetto una funzione ora le classi che vedremo fra poco e le funzioni costruttrici che sono quelle che abbiamo usato finora oltre a questo attributo a questa proprietà doppia parentesi quadra prototype hanno anche una proprietà che si chiama prototype senza parentesi quadra e senza p minuscola giusto per confondere un po' le cose quindi gli oggetti tutti gli oggetti hanno questa proprietà prototype e le classi e i costruttori di funzioni hanno anche un attributo che si chiama prototype che punta agli oggetti prototype per gli oggetti che sono creati da loro quindi sono due prototype due string prototype una con la parentesi quadra e una proprietà ed è comuna tutti gli oggetti e uno punto prototype che invece è solo per le classi e le funzioni costruttrici cosa serve tutto questo perché ci sono tutto questo cosa può essere utile allora prendiamo questo esempio di codice che è fatto come sappiamo noi non ci sono concetti nuovi in questo codice abbiamo una funzione abbiamo una funzione che costruisce person che mette un nome come attributo name e poi la costruiamo quindi questa è una funzione costruttrice la creiamo con new quindi creiamo un oggetto person con una certa stringa che andrà messa poi questa proprietà name e la memorizziamo nella variabile p poi in d ci mettiamo una nuova data in r ci mettiamo un oggetto che ha due proprietà minimo 0 massimo 30 e poi stampiamo stampiamo a questo punto qui stamperà person name fulvio qui stamperà con date la data di oggi che non è ovviamente il 9 aprile ma la data di oggi e r stamperà un oggetto che ha minimo 0 massimo 30 quindi questo è il comportamento del codice cosa succede quando noi se analizziamo la catena dei prototipi succede che vedete p è il nostro oggetto creato d è il nostro oggetto creato ed r è il nostro terzo oggetto che abbiamo creato la nostra terza variabile allora questi come tutti gli oggetti javascript hanno la proprietà prototype quella con le parentesi quadre che punta al suo prototipo ora r è un oggetto quindi che cosa diciamo è la variabile che è stata costruita è l'istanza di un oggetto e quindi punterà a un prototipo che sarà il prototipo di oggetto avrà come object prototype object perché è già un oggetto e il quale abbiamo detto come suo prototype punterà a null perché object è il suo capostipide d che è un oggetto di tipo date avrà come prototype object date punto prototype perché d è di tipo date è un'istanza di date che come cancelletto come parentesi quadra prototype come attributo come proprietà prototype punterà a object prototype il quale punterà a null quindi date diciamo così eredita se vogliamo usare questo verbo da prototype da object e p dato che usa una function construction è un pochino più complessa perché perché p ha come prototype il person punto prototype e person punto prototype ha come prototype alla fine sempre object prototype e che poi ha come ulteriore prototype null ma p è stato creato attraverso una function construction quindi noi abbiamo anche un oggetto che è questa function construction perché questo è un oggetto che abbiamo creato la funzione che abbiamo creato che in maniera analoga alle classi ha sia l'attributo sia la proprietà prototype che è l'attributo prototype il quale il primo la la proprietà prototype punta al suo prototipo che cos'è questo che tipo di oggetto è person è una funzione quindi punta una funzione e il suo invece proprietà la sua attributo prototype invece punta all'oggetto che si costruirà quindi questo è un costruttore di persone e quindi avrà il suo person punto prototype che è il suo prototipo che a sua volta perediterà da obgetto ma questa function ovviamente è una function dato che le function sono oggetti allora a volta la function avrà un function punto prototype che sarà puntato da un costruttore di function che in questo caso di function punto è entrambi function punto prototype e addirittura anche object nel caso di function dato che la funzione è un oggetto ma è anche una funzione quindi ha questa doppia anima il function prototype è puntato sia dall'oggetto costruito come funzione sia dall'oggetto costruito come oggetto che a sua volta va come prototype l'objet punto prototype quindi tutta questa catena di prototipi ovviamente è abbastanza complessa vedete non è lineare come potrebbe essere l'ereditarietà tra classi per cui una classe estende un'altra o fa una sottoclasse o ne estende cinque eccetera ma è un pochino più complicato perché c'è questo proprietà prototype che punta al suo object prototype e poi al suo object prototype ma quando costruiamo qualcosa a quel punto abbiamo anche un altro elemento che entra in gioco e poi in questo caso per esempio il function prototype è puntato sia object prototype di object costruito come new come diciamo come function come costruito da zero e anche come function quindi è una situazione abbastanza complicata tutto questo però ovviamente finisce con l'object punto prototype che ha come prototype null dunque tutte queste catene alla fine finiscono sull'object prototype e finiscono sul null e questo object prototype ovviamente definisce molte proprietà e metodi che poi sono comune attraverso tutta questa catena a tutti gli oggetti javascript che tutti alla fine o quasi tutti alla fine arrivano su questo prototype per esempio il toString il toString è definito a livello di object punto prototype e poi viene ovviamente reso disponibile a tutti gli altri o il value off o il get prototype set prototype che abbiamo visto prima e così via quindi ci sono una serie di metodi che ovviamente vengono definiti a livello di prototype qui che poi sono ereditati da non solo chi costruisce l'oggetto specifico ma anche da chi ci arriva attraverso il link di parentesi quadro e prototype e questo può essere complicato a suo piacere ovviamente e ovviamente anche tutti gli oggetti creati da object literal hanno lo stesso prototipo di oggetto che è object punto prototype quindi quando creiamo un literal esattamente come questo abbiamo questa condizione e sarà la stessa per tutti a cosa servono i prototipi i prototipi servono per accedere alle proprietà dell'oggetto che è elincato quindi non c'è una vera ereditarietà la proprietà non viene passata al figlio ma la proprietà rimane in capo all'oggetto che l'ha definito al prototipo che l'ha definito e quelli che sono collegati possono accedere a queste proprietà possono accedere ai metodi possono accedere alle variabili ma non le ereditano non diventano loro per cui se il padre in un certo senso cambia loro accedono a una proprietà che cambia per tutti in un certo colpo ora come si leggono e si scrivono proprietà beh leggere è abbastanza facile perché se la proprietà è definita sull'oggetto che abbiamo creato semplicemente la usiamo se non è definita nell'oggetto quindi se abbiamo un oggetto person come prima p e facciamo il toString allora se il toString non fatemelo scrivere tutto se il toString è definito su person sull'oggetto p allora lo usiamo se non è definito beh javascript cercherà attraverso tutta questa catena di prototipi dove è p cercherà tutto attraverso tutta questa catena di prototipi chi ha chi è il primo che ha il toString e a quel punto chiamerà il toString di chi lo definisce quindi se è trovato viene utilizzato se non è trovato o se arriviamo al null quindi non è trovato ritornerà undefined quindi se qualcuno definisce la funzione toSt verrà chiamata il primo che la metta a disposizione se invece non viene trovato e se arriva al null seguendo tutta questa catena complicata viene tornato undefined quindi questo è quello che voi se voi create appunto person come in quel caso è chiamato un metodo che c'è da qualche parte in uno dei dei prototipi a cui è linkato person a quel punto avete accesso a quella proprietà potete utilizzarla se ovviamente ha senso utilizzarla ma questo potete farlo se invece chiamate una proprietà che non è definita né in person né in nessuno dei suoi prototipi allora verrà restituito undefined quello che in react vediamo questa funzione non è definita per questo oggetto è questo questa cercare in questa catena di prototipi e se non viene trovato quindi si arriva al null a quel punto si dice no non esiste scrivere proprietà è una cosa molto caratteristica invece di questa catena di prototipi soprattutto quando si va a manipolare il prototipo a mano allora scrivere proprietà più o meno non segue questa catena di prototipi nel senso che se io voglio definire un nuovo non è del tutto vero perché ci sono alcune proprietà che sono ridonle quindi non si possono scrivere ma diciamo che in generale non seguo questa catena e ognuno può scrivere le proprietà che vuole anche con lo stesso nome quindi se non è definita sull'oggetto per cui stiamo facendo la proprietà stiamo creando il metodo toString viene creato sull'oggetto che stiamo definendo se viene creato ovviamente in ogni caso comunque e se questo toString è stato creato esiste in uno degli oggetti prototipi non importa viene creato lo stesso e ovviamente assumerà lo stesso nome e rimpiazzerà quel metodo lì ma rimpiazzerà in maniera abbastanza libera ed empirica nel senso che dato come funziona la lettura delle proprietà semplicemente quando verrà chiamato il toString lo trova nell'oggetto chiama quello non va neanche a cercare se esiste un toString precedentemente poi magari questo toString non fa il toString non fa quello che dovrebbe fare un toString normale fa altre cose però è così è stato definito a livello dell'oggetto e fine viene utilizzato quello non viene considerato in qualunque tipo eventuale di proprietà metodo o valore che sia che viene definito nei padri negli oggetti linkati quindi non c'è questo concetto di ereditarietà ripeto che c'è in altri linguaggi per cui davvero noi ereditiamo le cose e il figlio se vuole sovascrivere deve dichiarare che sta facendo un override qui è tutto molto più libero io voglio dichiarare una proprietà che si chiama toString la dichiaro c'era già in uno degli oggetti che nella catena di prototipi non importa la sto sovascrivendo per me non per gli altri ma per me quindi è tutto molto più libero ovviamente i concetti sono più o meno quelli ma è tutto molto più libero e poi da lì uno volendo potrebbe andare in dettaglio a vedere come funzionano le cose come si crea un prototipo come si crea un metodo sul prototipo in modo che poi gli oggetti che linkano quel prototipo possano accedere e ovviamente poi si possono creare metodi potete creare l'oggetto person e poi potete andare a creare un metodo sul prototipo di person che è ereditato da tutte le stanze di person e potete fare tutte le cose più complicate che vi vengono in mente come solito in javascript estrema libertà nel fare le cose e grande responsabilità nello sviluppatore nel poi sapere esattamente cosa sta facendo come in tanti altri casi in javascript che abbiamo visto e questa è una sorta di distinzione tra la programmazione oggetti class based come in java per esempio e questa prototype based ci sono alcune differenze e alcune cose simili un po' le avete probabilmente intuite allora in javascript le classi e le istanze sono due entità diverse avete la classe e avete l'istanza che costruisce da quella classe punto invece in javascript come avete visto anche dalla tabella non c'è questa distinzione netta perché tutti gli oggetti possono ereditare da un altro oggetto in realtà tutti gli oggetti hanno questo proprietà prototype che è linkato ad un altro oggetto qualcuno ha anche l'attributo prototype però tutti gli oggetti possono essere assimilabili sia quelli che costruite p uguale new person sia person function construction sia la classe quindi questa distinzione tra istanze e classi è molto più debole praticamente non esiste poi noi possiamo continuare a dire che la variabile p è un oggetto di tipo un'istanza di new person però in realtà non è così è un altro oggetto che è eredita dalla function construction person dall'oggetto person che su volte avrà un prototipo che su volte avrà un prototipo e così via definizione in java o in un linguaggio class-based definita una classe e poi chiamati il costruttore di quella classe per inizializzare l'istanza in un prototipo based invece si definiscono e creano un insieme di oggetti con le loro funzioni costruttrici in maniera molto più libera la creazione di un nuovo oggetto invece è uguale si fa con new nel class-based e si fa con new nella function construction abbiamo visto in javascript una gerarchia di oggetti beh nel mondo class-based è più regolato è più più stretto c'è una classe che si stende ad un'altra classe poi c'è il concetto di sottoclasse e così via qui è un pochino più libero perché si costruisce una gerarchia di oggetti una catena di prototipi assegnando un oggetto come il prototipo di un altro oggetto che è associato a una funzione costruttrice per esempio l'ereditarietà nel mondo class-based si segue la catena delle classi e qui si segue quella catena di prototipi per esempio esemplificata in quella slide quelli erano tre esempi ma immaginate un programma molto più complesso come questa catena di prototipi potrebbe esplodere e ripeto ci sono tutta una serie di cose per esempio io posso definire un metodo a livello di prototipo un metodo a livello di oggetto quindi posso definire un metodo in person.prototype o un metodo in person e posso farlo in qualunque momento nel codice dovunque voglia anche dopo che ho definito cos'è person e questo è lecito in javascript e di nuovo grande responsabilità per lo sviluppatore del farlo è difficile che uno capiti in questi casi particolari nello sviluppo normale per esempio nello sviluppo di un'applicazione web però sono concetti utili facili che capitano se uno per esempio fa una libreria per javascript se uno crea il nuovo djs per javascript queste cose invece diventano più importanti diventano più essenziali anche da sapere e conoscere ripeto non è il nostro obiettivo principale qui noi parliamo di programmazione web parliamo principalmente di react non vogliamo diventare guru di javascript e scrivere la prossima libreria voi potete farlo se volete ma no all'interno del corso ovviamente non ci interessa però tutto questo serve molto di più in quel mondo se uno lavora a livello di linguaggio di programmazione crea librerie per il linguaggio di programmazione più che per applicazioni come nel nostro caso le proprietà beh nel mondo java la classe definisce tutte le proprietà che un'istanza avrà e quell'istanza ha esattamente quelle proprietà non si può un'istanza non può se non tramite trucchetti aggiungersi proprietà a un certo punto che la classe non ha invece per via di come funziona javascript la funzione costruttrice o le proprietà specificano un set iniziale di proprietà l'oggetto che costruisce da lì può aggiungerle rimuoverle tranquillamente in qualunque punto del codice proprio per via di questa libertà estrema di questo collegamento tramite link tra prototipi e qui per esempio c'è uno zoom piccolino perché può essere utile di dove definiamo i metodi allora noi li abbiamo sempre definiti così no? abbiamo la la funzione costruttrice abbiamo detto che ha this.name uguale name this.age uguale age this.game uguale game e abbiamo fatto il metodo this.play metodo play che verrà chiamato poi così da un p punto play che fa un console punto log di this.game questo è come abbiamo definito i metodi finora all'interno di una funzione costruttrice quale caratteristiche ha? non l'abbiamo fatto ma quale caratteristiche ha? beh è lento da creare perché ogni volta che facciamo p uguale new person tutto questo si ricrea quindi il metodo play viene creato ogni volta sia per p che per p1 che per p2 per p3 tutte le volte chiamiamo new e più veloce da chiamare perché è una proprietà locale rispetto a p e ogni volta che facciamo new però dato che questo play si duplica ogni volta per ogni variabile const che creiamo let che creiamo occupa della memoria e può anche essere ridefinito su p1 p potrebbe ridefinire play se volesse e ha come vantaggio che può accedere però questo play può accedere alle variabili globali per esempio attraverso closure quindi le variabili che sono definite all'interno di questa funzione ma una funzione può anche essere definita a livello di proprietà di prototipo in questo modo quindi io ho questa funzione costruttrice che definisce person e posso a un certo punto nel codice dopo questo ovviamente scrivere person.prototype.showage quindi vado ad aggiungere al prototype a person.prototype vado ad aggiungere qui qui in questo in questo vado ad aggiungere qui in questo oggetto qui sotto in realtà un nuovo metodo che ovviamente p potrà accedere perché ovviamente arriva qua anche se p è stata costruita attraverso questo però posso accedere al support prototype perché ovviamente è un oggetto di tipo p di un oggetto di tipo person quindi posso aggiungere qui a un certo punto anche se non è definito qua anche se non è definito qua a un certo punto posso aggiungere questo nuovo metodo a livello di prototype in questo caso showage che fa console.log this age qualcosa e questo this age è questo age qui definito nel set iniziale di proprietà allora qual è il vantaggio e lo svantaggio è più veloce da creare perché viene dichiarato una volta nel codice e mai più invece qui tutte le volte che posso viene ridichiarato ogni volta che creano una istanza di person è più lento da chiamare perché ovviamente non arriva person ma devo passare attraverso il prototype usa meno memoria perché ogni istanza non ricrea questo intero oggetto ma ovviamente ce l'ha già lì pronto ed è showage è identico per tutte le stanze mentre play potrebbe cambiare e questo invece è definito in maniera più più stabile per ogni stanza che linka a questo prototipo quindi questi sono due modi di definire funzioni di metodi noi l'abbiamo sempre fatto così e possiamo continuare a farlo così ma c'è anche quest'altro modo che lo definisce a livello di prototype quindi tutto quello che poi linka quel prototype può avere accesso a questo metodo tutto questo per confondervi un po' le idee e per dirvi che ovviamente questo prototipo funziona diversamente dalle classi e che tutto questo che vi ho detto a parole viene poi incredibilmente semplificato dall'adozione della keyword class che ci permette di scrivere una classe esattamente come voi potreste immaginare di scrivere una classe in un qualunque altro linguaggio quindi c'è una keyword che si chiama class che permette di definire una classe attraverso la sua dichiarazione e poi una classe viene creata viene istanziata con la keyword new quindi ci porta la sintassi in maniera simile a quella che avremmo in un linguaggio class based ma ovviamente manteniamo tutta questa parte dei prototipi è incluso da S6 quindi ormai qualche anno che questo keyword esiste e appunto l'hanno aggiunta per semplificare la vita agli sviluppatori di non dover avere tutte le volte a che fare con la catena di prototipi e scrivere un prototipo umano e poi decidere se il metodo lo metto nella funzione lo metto nel suo prototipo eccetera ma veste tutta questa parte in maniera più semplice e si preoccupa lei la classe di fare tutte queste operazioni nel modo migliore possibile quindi scarica un po' di responsabilità lo sviluppatore come definiamo una classe? come immaginate di definire una classe probabilmente in qualunque linguaggio? keyword class nome della classe costruttore della classe costruttore che si chiama constructor e prende due parametri importante le dichiarazioni delle classi se non ho aggiunto recente relativamente recente non sono soggette a hoisting quindi voi non potete creare una classe prima non dovreste in ogni caso ma non potete vi dà errore se cercate di stanziare una classe prima di averla dichiarata mentre col function construction voi potete fare new person e nella rega dopo definire cosa è person quindi non potete stanziare una classe prima di dichiararla non dovreste però proprio non è possibile vi dà errore se lo fate mentre javascript in altri casi non lo dà vi ricordate il concetto di hoisting l'abbiamo visto quando abbiamo parlato delle variabili let const var un altro modo di definire una classe è analogo a quello che questo è il metodo più la dichiarazione è il metodo più classico un metodo che alla fine si usa più spesso quello che ricorda di più gli altri linguaggi di programmazione class based si può anche definire una classe con un expression esattamente come possiamo definire una funzione con una function expression possiamo definire una classe con una class expression che può essere named o non unnamed e si definisce dandogli un nome alla classe quindi let rectangle uguale class ma è rectangle oppure let rectangle uguale class poi tutto il resto è identico alla definizione di class anche queste ovviamente non sono holstead quindi si possono istanziare gli oggetti solo dopo averle dichiarate il corpo il corpo di una classe ha sicuramente un costruttore può chiamare super esattamente come farebbe una classe per chiamare il costruttore del prototipo del primo prototipo a cui è linkato e l'altro vantaggio l'altra cosa bella delle classi è che le classi il corpo delle classi è sempre eseguito in strict mode quindi se avete un file javascript che inizia con class qualcosa non dovete scrivere useStrict o meglio se lo scrivete non cambia niente perché tutto il corpo di una classe è comunque definito è comunque eseguito in strict mode automaticamente sia che voi scriviate useStrict sia che voi non scriviate useStrict e le classi poi possono avere proprietà metodi e quant'altro come si definisce un metodo si definisce semplicemente scrivendo la funzione quindi il nome del metodo aperta chiusa parentesi aperta graffa e fa return esattamente poi il corpo si comporta come una funzione ripeto tutto questo è sempre in strict mode esiste anche delle pseudoproprietà che ricordano il getter e il setter di classi che si definiscono come get funzione o set funzione e il getter permette di accedere a una proprietà definita una proprietà che esiste tipo hate non lo so oppure una proprietà che anche quindi a differenza dei getter normali anche una proprietà calcolata in questo caso in questo esempio ritorniamo una funzione il risultato dell'operazione di una funzione ritorniamo un valore e i setter invece sono fatti per eseguire funzioni ogni volta che una proprietà vuole essere cambiata quindi setter non cambia direttamente proprietà ma esegue una funzione per cambiare eventualmente una proprietà in questo caso per esempio fa set perimeter vedete non c'è una proprietà che si chiama perimetro ma fa set perimetro in questo set perimetro cosa fa? cambia l'altezza quindi cambia la proprietà quindi a differenza dei getter e setter che siete abituati voi probabilmente a usare per cui il set è il set hate o il get è il get hate queste sono funzioni che possono avere parametri diversi che possono anche non cambiare direttamente uno degli attributi definiti nel costruttore ma chiamare un'altra funzione o cambiarle in maniera complicata quindi sono setter e getter un pochino più sono pseudo proprietà un pochino più flessibili diciamo dei getter e setter che siete abituati a vedere esiste poi anche all'interno delle classi una keyword che si chiama static che definisce un metodo statico per la classe e i metodi statici sono chiamati senza ovviamente istanziare la classe tipicamente è buona norma non usare this all'interno dei metodi statici proprio perché possono essere istanziati possono essere chiamati senza istanziare la classe quindi qui uno potrebbe dire rectangle punto is wider e chiamare questo metodo quindi chiamando questo metodo statico si può accedere al metodo statico sempre attraverso la definizione della classe anche in questo caso la classe ovviamente non è hoisted quindi devo prima dichiarare e poi posso usare c'è il concetto di superclassi e sottoclassi e attraverso la parola extend come potreste sempre immaginare e e funziona anche quando l'extend funziona anche quando l'oggetto che viene steso non è una classe ma è una function è una construction function perché poi ripeto sotto il cofano la classe è la stessa cosa viene alla fine resa come una function come una construction function e il super è chiamato per è utilizzato per chiamare il metodo corrispondente della classe superiore della classe che in questo caso da qui eredita non solo il costruttore e il super si può anche utilizzare non solo dal costruttore quindi super si può utilizzare in qualunque punto all'interno della classe e chiama il metodo corrispondente a livello più alto della classe da cui viene steso qualunque questo sia non solo il costruttore potrebbe anche chiamare play potrebbe anche chiamare slip quindi è una super ma che fa qualcosina in più rispetto al super a cui probabilmente siete abituati tutto questo ripeto lo useremo dalla settimana prossima nel server perché lì diventerà molto comodo usare le classi per definire le cose che vogliamo in quanto saranno un pochino più complesse rispetto a quello che abbiamo definito finora in React che comunque ha su un mondo di componenti eccetera e anche un po' perché ci risparmia il doverci ricordare di scrivere use strict in quanto è già in automatico in strict mode infine i moduli direi che possiamo andare velocemente li abbiamo già usati da diverse settimane li abbiamo usati già dall'inizio del corso in realtà però giusto per fare una panoramica in javascript attualmente ci sono due tipi di moduli ci sono i moduli che stiamo utilizzando con React che sono i moduli ES6 che si usano con import e export come stiamo facendo che sono standard quindi sono standard del linguaggio e sono supportati dai browser e sono supportati in maniera sperimentale da node da versioni recente di node a un certo punto magari lo diventeranno anche in maniera stabile e si potrebbero si potranno utilizzare anche interamente in node un altro tipo di moduli per importarle e esportarle sono i moduli di node quelli che abbiamo usato inizio del corso con require che concettualmente sono praticamente la stessa cosa dei moduli ES6 ma non sono standard sono utilizzati in pratica con node e fino a poco tempo fa erano anche prima di questo supporto sperimentale dei moduli ES6 erano l'unico modo per importare i moduli e quindi questo require che abbiamo visto fin dall'inizio del corso però concettualmente quando scriviamo require quando scriviamo import sono le stesse facevamo la stessa tipo di operazione importavamo qualcosa da un modulo che cos'è un modulo? l'abbiamo fatto in React un modulo è un file JavaScript che esporta qualcosa uno più valori con la keyboard export e in modo che poi un altro modulo un altro file JavaScript può importare attraverso import e gli import e gli export importante devono sempre essere al top level quindi non possono essere all'interno di una funzione per esempio e ci sono due tipi di export l'abbiamo già visto quello con nome e quello di default quello di default è quello che esporta un singolo valore export default grades esporta solo questa funzione non importa quante ce ne siano e quello con nome invece serve per esportare uno o più valori a quel punto con nome ed è quello che aveva la sintassi che abbiamo sempre usato con la sintassi delle parentesi graffe quindi export name another name qui esporta in questo caso queste due variabili name e another name e notate che l'export può anche essere usato a differenza di quello che abbiamo usato finora non solo per esportare componenti non solo per esportare funzioni ma può essere usato per esportare qualunque cosa anche delle variabili l'altra parte è l'import che abbiamo usato import qualcosa o con le parentesi graffe o senza parentesi graffe in base a come viene fatto l'export da un certo modulo e vanno accoppiati se l'export è di default in questo caso esportiamo questa arrow function da quest'altra parte si può importare dandogli un nome a nostra scelta perché questo non ha nome come export default da il modulo che esportiamo dato che questo non ha nome si può scegliere un nome quello con nome invece deve rispettare esattamente i nomi che sono stati dichiarati nei momenti in cui è stata fatta la dichiarazione dell'export se si vuole attraverso la parola chiave as si può anche rinominare in fase di import se si volesse l'abbiamo fatto per esempio col router con browser router oggi nel nostro esempio ci sono poi altre opzioni di import si può importare con l'asterisco se l'export è stato fatto ovviamente col nome non di default abbiamo già visto lo sappiamo già si può importare solo un po' del modulo quindi non tutto le cose esportate ma solo un pezzettino e se si vuole si può anche importare il default export e ogni qualche named export scrivendo import un nome scelta o il nome di default virgola aperta graffa il il nome del singolo elementi esportati col named export quindi in un file si può anche esportare sia in modalità default sia in modalità con nome tipicamente non si fa però volendo si può fare se ne scegli uno dei due ma si può anche fare l'abbiamo già visto che quando usiamo i moduli è accettata javascript e noi continuiamo a scrivere javascript come estensione sarebbe preferibile ma in pratica si fa raramente usare l'estensione mjs che è un'estensione che proprio dice che quello è un modulo che avrà un qualcosa che viene esportato e importato se vogliamo caricare un modulo in html lo facciamo attraverso script e se avessimo un server potremmo farlo anche in javascript normale senza react facciamo script e scriviamo come tipo modulo questo carica mette a disposizione il modulo e poi nel file javascript main.javascript possiamo importare da altri moduli quindi questo serve per importare il punto principale il javascript principale all'interno dell'html e i moduli sono automaticamente caricati in modalità defer quindi questo richiama il mondo pre-react in particolare però funzionano anche in quel mondo non solo nel mondo react e come vi dicevo in node.js c'è un supporto dalla versione 14 per cui dovrebbe funzionare però che è imparzialmente sperimentale però non tutti i moduli di node sono attualmente forniti come moduli di S6 e quindi è più conservativo ed è più sicuro in questo momento sicuro nel senso di avere la certezza di importare le cose correttamente importarle con require e non con l'import e l'export però ufficialmente dovrebbe già funzionare perché noi stiamo usando una versione di node compatibile quello che abbiamo usato finora con require si chiama questo command.js volendo si potrebbe utilizzare anche una libreria esterna per abilitarlo nel browser tipicamente non si fa ed è quello che abbiamo è quello che abbiamo parlato come dire quello che abbiamo utilizzato in node ho visto la domanda ma fatemi solo finire e poi ci torno come si fanno gli import con common.js lo sappiamo con require e poi si fa const o let qualcosa e si può anche caricare da file mettendo il path e come si fa l'export l'export si fa con export e questo sarà utile perché noi lavoreremo in node sul back end e si fa con export punto qualcosa in questo caso si passa il risultato si esporta l'area si esportano le singole cose che vogliamo esportare oppure si può fare un module punto export in cui si passa per esempio tutto quello che in questo caso esportiamo l'intera classe e non una singola funzione quindi possiamo scrivere module punto export se vogliamo esportare tutto una specie di default export oppure se vogliamo fare un export più piccolo su di alcune portazioni possiamo scrivere export appunto la cosa che vogliamo esportare quindi questo è l'equivalente del mondo ES6 questo common js export l'import abbiamo già usato dalla prima settimana di corso praticamente l'export ovviamente ci sarà utile con col server quando parleremo quando faremo node come faremo a express quindi la settimana prossima perché ovviamente quello ritorneremo non nel browser quindi abbandoneremo il browser perché ritorneremo in node quindi lì cominceremo a usare common js per fare gli import e gli export la domanda potrebbe spiegare questo giusto? allora i moduli nel browser si possono importare in questo modo anche senza React quindi anche manipolando il DOM a mano con le query selector e quant'altro però hanno un requisito forte il requisito forte è che devono essere forniti da un server per questo in React funzionano in React possiamo fare import perché React ce l'abbiamo ancora qui React quando lancia la sua applicazione la pubblica su un server localhost 2.3000 lancia un suo server che ha l'unico scopo di pubblicare la pagina React non fa nient'altro non ha neanche eccessive opzioni proprio perché è un server di sviluppo in cui lanciare appunto la applicazione React ma la lancia da un server per cui se noi andiamo a vedere credo in index.html no 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 perché lo importa da qua ok no però noi potremmo in un file html scrivere se volessimo importare un file javascript no script adesso lo scrivo qui ma non è che non deve rimanere qui script type uguale module src index punto javascript e in index punto javascript avere import per esempio o avere export anche tutte e due ora questo qui questo type punto module è chiamato in defer mode e adesso lo stiamo vedendo dentro React ma potremmo anche prendere l'applicazione degli esami che abbiamo fatto prima di React e questo funziona senza errori solo se l'applicazione è fornita attraverso un server come in questo caso ora se voi ricordate prima di usare React noi quando come aprivamo una pagina nel browser una pagina html nel browser con javascript ci facevamo doppio clic sopra non la lancevamo con un server e se ricordate qui c'era scritto file due punti due punti per esempio questo adesso non so se c'è più ma c'era scritto così file due punti due punti qualcosa ecco questo file due punti due punti non è ovviamente un server perché leggevamo da disco e leggendo da disco non è fornita su http e leggendo da disco non è possibile utilizzare type.module perché i moduli hanno bisogno di un server cosa vuol dire bisogno di un server hanno bisogno che a causa del cross origin reference source a causa del cross origin non possono funzionare senza un server che cos'è il cross origin il cross origin cos'è course course è un meccanismo ve lo spiego velocemente perché mancano pochi minuti è un meccanismo di default di design del web per cui una pagina nel browser può solo chiamare url che sono nella stessa dominio quindi se voi avete una pagina ospitata a localhost 2.3000 il javascript che gira in quella pagina può solo fare chiamate su localhost 2.3000 non può fare chiamate a www.google.it via javascript il browser può ma via javascript non può perché è un cross origin è una pagina javascript che chiama un server che non è il suo che non è quello che ha fornito la pagina javascript è la pagina html questo è di default by design quindi questo ovviamente file due punti due punti va in conflitto con questo concetto e e ha bisogno di un server che invece fornisca un indirizzo per cui tutto questo funzioni perché se no voi avete file due punti due punti desktop e il modulo che in un'altra cartella o su un altro computer o è addirittura importato da internet se pensate che ha a djs importato come modulo come abbiamo fatto noi ovviamente quello è installato con npm install quindi o o bootstrap se noi lo carichiamo da react bootstrap no perché non va bene ma se fosse una libreria che può essere importata come moduli djs per esempio se ricordate noi non facciamo import djs noi lo mettevamo nell'html e lo usevamo però djs funziona anche come modulo non potevamo farlo perché lavoravamo con questo file quindi non potevamo caricarlo per esempio da internet direttamente nel javascript ma dovevamo già averlo lì pronto per essere usato poi ovviamente al giorno d'oggi esistono meccanismi per disabilitare selettivamente il course e quindi abilitare delle pagine javascript nel browser a chiamare server indirizzi http che non siano i propri quindi esistono dei metodi per disabilitarlo e esistono bisogna agire tipicamente nel codice javascript del browser e il server che dall'altra parte deve rispondere deve essere abilitato a deve sapere che certe cose può ignorare questo vincolo del fatto che siano sulla stessa origine che le risorse arrivino dalla stessa origine e quindi rispondere anche a chiamate che non siano del suo server e questo in parte credo lo vedremo perché a quel punto avremo un server che pubblica delle informazioni e React che ha bisogno di quelle informazioni e probabilmente gireranno su due server diversi quindi in parte il corso lo affronteremo brevemente risponde un pochino Mario esatto sì ovviamente col fetch che è una cosa che faremo fra qualche settimana ovviamente quando metteremo insieme React e il server però in quel caso deve essere abilitato sul server la possibilità di accedere a delle risorse ok fatemi sottolineare una cosa ancora che possiamo chiudere ma è una cosa che riguarda i laboratori e fatemi polito web application 1 application web 1 2021 vediamo se qui c'è così volevo solo sottolineare una cosa giusto per ricordarvelo no continuo a sbagliare scusate allora ricordatevi che lunedì ci sarà l'ultimo pezzo del Big Lab 1 ricordatevi che affinché noi correggiamo quando ci sarà la scadenza che adesso non ricordo ma è scritta anche su tutto il corso la deadline oltre che nel test del laboratorio Big Lab 1 generale ricordatevi che per essere considerati o per la valutazione voi dovete fare due cose una il progetto deve essere tutto nel branch principale sul repository che avete avuto assegnato come gruppo e due che l'ultimo commit quello della consegna diciamo così abbia un tag che si chiama final quindi per la consegna voi dovete avere nel vostro repository che vedete su GitHub non solo tutto il codice nel fatemelo prendere da qua per esempio non solo tutto il codice qui nel main o nel master dipende come l'avete creato ma anche avere un tag che è analogo a questi che si può creare da releases se volete io dovevo essere loggato c'è un bottone più ma anche un tag che si chiami final che corrisponda all'ultimo commit del progetto che volete che venga corretto questo perché magari uno può aver caricato la roba su GitHub ma aver poi deciso che non vuole consegnare allora questo tag final sull'ultimissimo commit che avete fatto quindi su quello che volete consegnare identifica che siete d'accordo e siete a posto e che volete effettivamente consegnare quello che volete questo ovviamente nel vostro repository che è stato assegnato al vostro gruppo tramite GitHub Classroom ok domande nel caso aveste diviso in branch dovete fare il merge sul main e fare un tag sul main sì alla fine della giornata alla fine di tutto quando avrete consegnato dovete avere tutto l'ultima versione deve essere qui su main o master deve essere qui e ci deve essere una release che si chiamerà final quindi caricate tutto una volta che avete tutto su main fate nuovo tag e avete finito però tutto deve essere in main non importa quanti branch ci sono deve essere tutto mergiato sul main per il secondo big lab quindi avremo un altro repository yes per il secondo big lab avrete un altro repository sempre da recuperare via GitHub Classroom come avete fatto per il primo solo che il gruppo ci sarà già e quindi semplicemente avrete un altro repository non dovrete ricreare il gruppo perché il gruppo esiste già e poi lo stesso meccanismo di GitHub Classroom lo usiamo anche per l'esame quindi questo è anche un allenamento se volete per l'esame solo che lì ogni persona avrà un repository e non ogni gruppo quindi poi useremo GitHub Classroom per la consegna anche dei progetti d'esame dei vostri progetti d'esame che saranno da correggere quindi appunto i big lab sono anche un po' in allenamento verso quello che poi il processo dell'esame su GitHub Classroom sul clone del repository di GitHub Classroom eccetera bene allora io stopperai la registrazione perché sono le 11 e mezza passate e se per caso avete altre domande sentitevi liberi di farlo altrimenti vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana ci vediamo poi giovedì prossimo oppure se volete venire a consulenza mercoledì alle 4 mercoledì alle 4 alla prossima